Buongiorno, allora ragazzi, ragazze, buongiorno, vi do il mio benvenuto alla Casa della Memoria e della storia. Vi ringrazio naturalmente ad essere qui con i vostri professori, ringrazio anche il personale tecnico che ci sta permettendo appunto di mandare questa diretta in modo che ci vedano anche in remoto, come voi sapete si dice, e naturalmente tutto il personale delle istituzioni biblioteche di Roma, perché le istituzioni biblioteche di Roma in questo momento, in questa fase, non solo delle iniziative dedicate al giorno della memoria, ma sempre in questa casa, perché questo è un luogo che lavora e opera sempre, non solo in questi giorni. Quello che voglio spiegarvi è che la Casa della Memoria e della storia nasce proprio per ospitare associazioni che hanno un compito importante. Vi chiederete perché casa? Cioè la memoria in realtà è qualcosa di fluttuante, qualcosa di molto poco concreto. Esistono a Roma, e le avrete sentite nominare, la Casa del Cinema, la Casa del Teatro, la Casa della Letteratura. Bene, la memoria in realtà non è qualcosa di concreto, però se noi la vogliamo vedere assieme appunto alla storia, allora capiamo qualcosa di più, perché è un meccanismo, la memoria, che ci permette di ricostruire i fatti. E se noi ricostruiamo i fatti solo sulla base della nostra esperienza personale non basta, cioè della storia per esempio della nostra famiglia che è importantissima, ma se noi la, si dice, contestualizziamo all'interno di un periodo storico, allora la cosa diventa maggiormente interessante per tutti, per noi che ci studiamo e per chi naturalmente la deve trasmettere. Questa casa quindi ospita associazioni, associazioni, gruppi di persone che perché hanno delle competenze particolari, sono storici appunto, sono sociologi, sono antropologi e anche volontari, tanti volontari che operano qua dentro tutto l'anno appunto producendo cultura. È una bella parola, no? Produrre cultura, è bello. In che modo? Organizzano presentazioni di libri, rassegne di documentari, convegni, naturali, e incontri. Incontri con ovviamente un pubblico adulto e anche un pubblico di ragazzi delle scuole superiori o medie. Diciamo che sono venuti qui anche ragazzi delle scuole elementari con grande soddisfazione per loro e per noi. Quindi questo è il valore e il senso dell'esistenza della casa, della memoria e della storia. Ricordatevi non solo della memoria. Le associazioni che sono qua dentro appunto non ve le racconto tutte ma vi racconto la mia. Io mi chiamo appunto Fiorella Leone e io vengo tra l'altro da un altro mondo perché mi occupo di storia solo dopo che sono andata in pensione dal mio lavoro che è stato completamente diverso. Era una biologa, una biologa che ha lavorato all'università per tanti anni. Ora vi chiederete che c'entra che uno appunto ha studiato biologia e poi dopo viene qui a studiare la storia. Intanto chi si è occupato di ricerca come me è una persona curiosa. Quindi quando sono andata in pensione ho detto ma interessiamoci di qualche altra cosa. E forse la storia non me l'avevano mai insegnata troppo bene a scuola. Tant'è vero che mi sono innamorata della storia e di come qua dentro in particolare alcuni ricercatori, alcuni storici la studiavano e la trasmettevano. Come quindi? Non solo raccontando i fatti così come appunto si sa che la storia è in fondo un insieme di fatti, un insieme di vicende, ma integrando questi fatti con i racconti delle persone che effettivamente hanno vissuto la storia. E quindi la storia diventa un qualcosa di vivo, di appassionante perché appunto c'è la storia soggettiva delle persone che si inquadra all'interno del periodo storico del quale ovviamente si devono conoscere i fatti oggettivamente. Quindi non è che una cosa escluda l'altra, ma l'integrazione di una e l'altra fa sì che questa disciplina che poi si chiama storia orale diventi qualcosa di estremamente vivo, appassionante e io mi sono appunto innamorata di questa disciplina. Vi faccio solo l'esempio, ieri per esempio qui abbiamo inaugurato la casa perché oggi è appena il secondo giorno dopo un periodo di chiusura molto lungo, abbiamo fatto anche dei lavori di ristrutturazione e poi sapete perché abbiamo dovuto chiudere, è inutile dirlo. Ieri il presidente della mia associazione che si chiama Circolo Gianni Bosio, poi vi dirò perché questo nome e chi è questo signore, ha presentato non un libro, non un film, ma un podcast, un progetto di podcast. Voi sapete naturalmente cos'è un podcast, oggi i ragazzi usano naturalmente questi strumenti. La storia orale procede proprio più che sul racconto per immagini, per fatti, racconto audio e il podcast è uno strumento eccezionale. Questo progetto infatti consiste nell'avere montato tutta una serie di interviste, di brani musicali, ovviamente intorno a un tema che era il tema della storia, insomma intorno alla deportazione, intorno alla persecuzione delle persone che durante il periodo fascista hanno avuto i loro problemi, come oggi parleremo appunto qui della storia di Ugo Fuà. Quindi ecco, per farvi un esempio di quello che può essere la produzione di cultura di questo posto. A me fa molto piacere che voi stiate qua perché il rapporto con i ragazzi per me è sempre stato estremamente produttivo, non solo per me, credo, spero anche per voi. E quindi dovete essere anche, non dovete, ma io vi invito ad essere anche un po' interattivi ecco con noi. Se c'è qualcosa di quello che io ho detto per esempio fino adesso che non avete capito e che non è chiaro, ci ritorneremo senz'altro. Perché a me interessa anche che voi abbiate un'idea appunto di dove state, non solo di quello che vi ho raccontato io, perché così magari ci possiate anche ritornare con i vostri genitori, con i vostri amici. La casa è un posto pubblico, si parla di casa appunto perché in fin dei conti è un po' come dire un luogo confidenziale ecco dove voi potete venire a conoscere il nostro lavoro, a parlare con noi e quello che poi noi facciamo è anche permettere la fruizione, l'utilizzo di questa ricerca, di questo studio perché è chiaro altrimenti se rimane tutto chiuso qua dentro non ha più senso. Quindi l'invito per voi è questo. Passiamo alla cosa più importante, io non mi voglio dilungare ma qualcuno mi ha chiesto appunto di spiegare dove siamo. La storia orale procede anche e tanto intervistando i testimoni. Chi sono i testimoni? Sono le persone di cui appunto parlavamo prima che raccontano la propria esperienza di vita in un contesto storico. Qui ne abbiamo uno. Ne abbiamo uno in carne e ossa, ne abbiamo uno quindi non solo la voce perché noi abbiamo archivi, un archivio sonoro dove tante voci sono conservate ma qui la voce ce l'abbiamo dal vivo di un testimone che vi racconta la sua storia. E un po' più in là c'è una professoressa di scuola media, è stata anche una preside che farà a Ugo delle domande dialogheranno tra loro e vi racconteranno un po' il contenuto del libro ma anche qualcosa di più. E voi appunto vi invito ancora a cercare di intervenire, insomma se siete preparati o no, non importa, fate qualunque domanda e noi vi offriremo la possibilità di farlo senz'altro. Quindi a te Ugo, passo la parola a te senz'altro o come volete ma penso prima a te. Buongiorno, beh Fiorella aveva raccontato un po' a grandi linee quello che è l'attività in questa casa. Io voglio solo dire, cercherò di, in genere non sono molto lungo nel parlare, però insomma qualche tratto storico, qualche episodio ve lo voglio raccontare anche per così farvi comprendere meglio quello che è stato un periodo orribile della vita mia e di molti di noi. Io non avevo fatto niente di male, ero un cittadino normale, quando sono state emanate le leggi in Italia contro gli ebrei, contro i cittadini italiani di religione ebraica, io ci tengo sempre molto a fare questa precisazione, perché gli ebrei sono cittadini italiani di religione ebraica, la religione è una cosa, la cittadinanza è un'altra. Però è successo che in Italia, Italia fascista, perché nel 1938, che è stata l'emanazione delle prime leggi contro i cittadini italiani di religione ebraica, sono state emanate nel 1938 e io avevo dieci anni. Avevo dieci anni, era un momento molto delicato della mia vita, che a dieci anni si è bambini ancora. Io avevo finito le elementari e avrei dovuto andare alle medie, che allora si chiamava Ginnasio, io sono napoletano, vivevo a Napoli e a casa mia avevamo cinque fratelli, cinque maschi, io sono quello di mezzo, quindi due più grandi e due più piccoli. Io ero felicissimo di aver finito le elementari, tra l'altro avevo fatto l'ultimo anno, l'avevo saltato, perché pensavo l'anno prossimo io andrò a Ginnasio insieme ai miei fratelli maggiori. E voi sapete che uno ha il desiderio di andare con i fratelli maggiori, è sempre una spinta, perché i fratelli minori sono sempre quelli che si cerca di evitarli il più possibile, perché sono più noiosi, sono più capricciosi, i fratelli maggiori uno diventa più importante. Senonché è proprio in quel momento della mia vita che sono state emanate queste leggi e io non voglio leggere, vi leggo solo un rigo, perché è un rigo che dice poche cose ma ne dice tante. Noi eravamo sotto la dittatura fascista, non era una repubblica, l'Italia aveva una monarchia, casa Savoia, e sotto il fascismo, oltre a indicare la data di quando eravamo, bisognava aggiungere la data da quando si era impossessato il fascismo del paese, da quando era nata la dittatura fascista in Italia che era nata nel 1922. Ecco la legge, io vi leggo il rigo, reggio decreto 5 settembre 1942, 1936, anno sedicesimo dell'era fascista. Ecco che bisognava aggiungere questo dettaglio. Poi la legge cominciava così, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia e imperatore d'Etiopia, esaminato tutta una serie di articoli, decreta alle scuole di tutta Italia, di ogni ordine e grado, non potranno più essere iscritti alunni di razza ebraica. Vedete, questo è un rigo, eppure è un rigo che ha stravolto la mia vita e la vita di tanti che erano nelle stesse mie condizioni. Qual è stata la mia reazione immediata? Questo io lo racconto subito perché è stato un momento importantissimo. brutto, pesante, ma va raccontato. A distanza di anni si riesce a raccontare anche cercando di trattenere la commozione, l'emozione. Io sono scoperto a piange. Ho pianto a dirotto perché io a dieci anni mi sono sentito strappare la scuola. Ma la scuola era una cosa mia, perché la scuola è vostra. Voi pensate come sarebbe la vostra vita se non andate a scuola, se dovesse studiare a casa da soli. E allora io in quell'attimo ho capito che qualcosa era successo e ho capito che è quello che poteva succedere dopo. Vabbè, col pianto non è che si risolvono. Anzi, io dico sempre, voi siete già ragazzi più grandi, ma quando parlo con ragazzi più piccoli, io dico sempre, se qualche volta vi viene di piangere, piangete. Non bisogna mai vergognarsi, perché nella vita si può piangere di rabbia, si può piangere di dolore, qualche volta si piangere anche di gioia. E quindi è uno sfogo. Se vi viene, non vi preoccupate, non c'è mai da vergognarsi. Però bisognava affrontare immediatamente i problemi successivi. La prima domanda, mi ricordo che io feci ai genitori, e dico, ma allora se io non potrò andare a scuola, non studierò più, resterò ignorante. E invece i genitori, come sempre, hanno cercato di rassicurarci e hanno detto, in qualche modo si farà. Come si è fatto? Studiando a casa privatamente. Privatamente, ecco, io penso che voi che siete venuti stamattina a questa bella classe, io penso che, come sempre succede quando le classi, i ragazzi vanno in giro, vanno in qualche posto, è un momento di partecipazione, di gioia, anche di svago, anche se sapravate che venivate per una cosa seria, però è un momento molto bello. Studiando da solo, naturalmente tutto questo cade, e si studia da solo. Io avevo trovato un altro amico che aveva la stessa età mia, abbiamo stato in due, e si studiava a casa, una volta in una stanza, una volta in cucina, una volta a casa sua, è mancata la scuola. Io oggi dico sempre che, per non essere andato a scuola cinque anni, io ho fatto il conto, mi sono stati rubati mille giorni di storia. Io ho subito un furto di mille giornate di scuola, ed è stata tante. Io per molti anni ho sentito questa mancanza, questo furto che io avevo subito. E io dico sempre che quando, come stamattina succede, io passo una mattinata in una scuola con voi, perché voi siete una classe, rappresentate la scuola, io recupero una di quelle mille giornate che mi sono state rubate. Ma quello che mi ha dolorato molto allora, e devo dire che mi ha dolorato ancora adesso, quando ci penso, è stata l'indifferenza dei miei compagni. Io quando le leggi sono state emanate a settembre, io a ottobre avrei dovuto tornare a scuola, avrei dovuto ritrovare quasi tutti i miei compagni, anche loro, al ginnasio. Io non pensavo che qualcuno dei compagni sarebbe venuto a cercarmi, a vedere cosa era successo, perché io non ero andato al ginnasio. Io credo che se capitasse a voi, che uno di voi per qualche giorno, per qualsiasi motivo, anche Bellofo partisse, si trasferisse, ma insomma se non venisse più a scuola, io sono sicuro che tutti gli altri andrebbero a cercare questo compagno o questa compagna, perché questa è la solidarietà. Invece in quel momento, oltre alla rabbia, alla mortificazione di essere cacciato da scuola senza aver fatto nulla di male, ho sentito e ho sofferto per l'assoluta indifferenza dei miei compagni. Nessuno di loro è venuto a cercarmi, nessuno di loro si è fatto vivo e nessuno di loro, quando ci siamo rivissi dopo cinque anni, mi ha chiesto perché io per cinque anni non ero andato a scuola. Quando io racconto questo, non lo racconto con rabbia, non vorrei che qualcuno pensasse che io ho un risentimento, anzi, io che sono portato al buonismo in linea di massima, dico che voglio anche giustificare quei ragazzi, perché noi vivevamo sotto la dittatura e guardate che quando si vive sotto la dittatura, e la dittatura fascista è una dittatura spietata, quanto la dittatura nazista, quando si vive sotto la dittatura non solo si ha paura di parlare, si ha paura di pensare, si ha paura di fare qualsiasi gesto, per paura che naturalmente di essere di compromesso. Io sono sicuro, o voglio illudermi, ma ne sono abbastanza certo, che qualche compagno avrà detto ai genitori, io vado a cercare Ugo Fra, perché non lo vedo più, e i genitori avranno detto, lascia stare, non ti mischiare in queste faccende, perché questo succede quando si vive sotto una dittatura. Ecco, voi per fortuna siete nati in un periodo completamente diverso, dove godete questa libertà di cui godete, per fortuna, libertà che è stata conquistata a duro prezzo dai vostri antenati, genitori, nonni, bisnonni, e allora non potete forse ben immaginare come si viveva male sotto una dittatura. Ecco, questo è stato l'inizio della storia, dell'inizio di quelle leggi che hanno privato, perché alla prima legge che cacciava dalle scuole i ragazzi, poi è seguita quella che ha cacciato gli insegnanti, i presidi, i bidelli, ha cacciato i medici ebrei che lavoravano in un ospedale, li ha mandati via, i commercianti che volevano, dovevano aprire un negozio, hanno avuto le loro difficoltà e non hanno potuto intraprendere alcune attività. Quindi i cittadini italiani di religione ebraica sono stati privati dei loro diritti di cittadini, diritti di cittadinanza. Purtroppo questi anni, queste leggi che si susseguirono una dopo l'altra per cinque anni, privarono i cittadini italiani di religione ebraica e i loro diritti civili. Però era soltanto l'anticamera del secondo periodo, quello quando l'Italia, che era alleata della Germania nazista, aderì al progetto nazista di eliminare totalmente i cittadini italiani di tutta Europa, di eliminarli, di ucciderli. E allora ecco che a questo primo periodo di privazione dei diritti civili è poi seguito il secondo più cruento, a partire dal 1943, quando i cittadini italiani, i cittadini anche di tutta Europa, venivano arrestati, deportati nei campi, nei campi detti di concentramento, ma è che io definirei meglio campi di sterminio. Perché? Perché chi veniva trasferito in quei campi veniva ucciso, veniva sterminato e allora non possiamo parlare di campi di concentramento. Sono che la definizione esatta è campi di sterminio. Va detto perché io credo che vanno precisate, non bisogna avere, quando si fanno delle ricostruzioni storiche bisogna anche avere il coraggio di dire delle verità che scottano o delle verità che non conosciamo. Oltre ai 6 milioni di cittadini europei di religione ebraica che sono stati esterminati nei campi di sterminio, da Auschwitz, dico Auschwitz perché è il più conosciuto e tanti altri, sono stati uccisi nei campi di sterminio anche 5 milioni di non ebrei, 5 milioni che avevano tra virgolette una diversità, quello di essere antinazisti, antifascisti, di essere gay, di essere testimoni di Geova, di avere una disabilità fisica. Tutti questi cittadini con questa, ripeto, tra virgolette diversità, perché non esiste l'università tra esseri umani, sono stati esterminati accanto ai 6 milioni di ebrei. Questo va ogni tanto ricordato perché bisogna che la storia abbracci tutto un periodo, ma con tutti i possibilimenti particolari possibili. Tornando adesso un momento alla partenza di quello che è stato quel periodo molto duro e molto doloroso, devo dire che studiare privatamente non è divertente perché in due non c'è tempo, non c'è modo di fare qualche scherzo, qualche cosa, qualche gita, niente, non esisteva, ne si facevano soltanto, alla fine dell'anno scolastico sorgeva subito sotto il problema, io mi ricordo che chiesi ai miei genitori, ma allora dico chi mi dice che io dalla prima a quest'altro anno potrò andare in seconda? E no, dovrei fare l'esame come privatista. Che significa l'esame da privatista? Significa che alla fine di ogni anno scolastico, che esistono tuttora gli esami da privatista, coloro che non hanno potuto frequentare l'anno scolastico per una qualsiasi ragione, o perché erano stati ammalati, o perché c'erano stati difficoltà familiari di vario genere, poi in quel periodo, specialmente al sud, a Napoli, i ragazzi della vostra età dovevano anche lavorare, perché c'erano famiglie che avevano bisogno di un aiuto nel loro lavoro, e allora ragazzi che lavoravano a 12, 13, 14 anni, lavoravano la mattina, di pomeriggio, di sera, facevano le scuole serali, e poi dovevano fare gli esami da privatisti, come abbiamo fatto noi, che non abbiamo potuto affrontare la scuola per altri motivi, solo perché eravamo di una religione diversa. E questo esame da privatista, eravamo 50, 60, perché erano aule molto grandi, non ci conoscevamo, ci vedevamo soltanto i giorni dell'esame, e facevamo gli esami, e siamo andati avanti così per 5 anni. Io, non crediate che sia stata una cosa semplice, perché le sorprese avvenivano una dopo l'altra. Io ho sempre presente il primo giorno che mi sono presentato all'esame, è un'aula il doppio di queste, naturalmente perché c'erano il doppio, il triplo delle persone che sono oggi più presenti. Mi sono presentato alla cattedra per firmare il foglio di presenza, e la sorpresa, quando vicino al mio nome, Foa Ugo, c'era scritto, in ordine alfabetico, naturalmente, c'era scritto in rosso di razza ebraica. E questa è una tutte sorprese, ma io ho firmato, disciplinatamente, mi sono andato a sedere, io questo episodio lo racconto sempre, perché è toreroso raccontarlo, e mi sono seduto nel secondo, terzo banco, e avevo cominciato a scrivere il tema che la professoressa aveva dettato, la presenza di commissione aveva dettato il tema, perché gli esami si cominciano sempre col tema di italiano. Adesso io, voi, quando voi farete l'esame che dovete fare, quando lo dovete fare, vedete che il primo giorno tema di italiano, non è cambiato, in 80 anni non è cambiato questo modo di iniziare l'esame, e credo che sia il più giusto. Io avevo appena cominciato a scrivere, a sviluppare il tema, quando la presidente di commissione, che era l'autorità in quel momento, presidente di commissione d'esame, un'autorità, diceva, ma dove sei, dove sei, che è un tono anche duro, e sono qui. No, e che ci fai lì? Tu ti devi alzare, tu devi andare a sedere, lì in fondo, dove c'è quel banco isolato, perché tu non devi avere contatti con nessuno. E io mi sono, non ho più pianto, questo lo voglio precisare, perché in quel momento si vede che ha preso il sopravvento, forse un po' di orgoglio, un orgoglio irrazionale, perché non avevo motivo di essere orgoglioso, però forse per dignità, non ho pianto, sono andato a sedermi, ma perché io racconto questo episodio? Perché è un episodio molto bello, perché qui la professoressa che in tono grave, pesante, mi ha detto dove sei, vai in fondo e non ne avrei in contatto, poi è venuta vicino a me e mi ha detto all'orecchio Ugo, coraggio, tutto questo passerà. Ecco, perché io lo racconto, intanto lo racconto anche per onestà intellettuale, perché è stato un episodio bellissimo, ma perché per dirvi quanto sia stato importante in quel momento quella manifestazione di solidarietà, quella solidarietà che io speravo che mi mostrassi i miei compagni di scuola venendomi a trovare a chiedere che fine avessi fatto, perché la solidarietà è proprio l'opposto dell'indifferenza, allora se l'indifferenza ferisce e addolora, la solidarietà in quel momento aiuta e a me mi ha aiutato e quando è finita la guerra mi sono andata a cercare quella professoressa, l'ho voluta ringraziare, ho voluto dire quanto in quel momento a me che è un ragazzino debole, non ero più dieci anni, ne ero undici perché era passato nel frattempo un anno, quanto bene e quanto coraggio mi avesse dato. Ecco, io vi ho citato questo episodio perché è un episodio che ritengo doveroso sempre ricordarlo. Io non mi faccio tutta la storia di quello che è successo nei cinque anni successivi perché poi naturalmente purtroppo nel 1938, dopo due anni nel 1940 è scoppiata la guerra, quando è scoppiata la guerra Napoli che è una città strategicamente importante perché c'è il porto, perché c'è la stazione ferroviaria attraverso la quale si va dal nord al sud, dal sud al nord bisogna passare da Napoli, quindi cominciavano i primi bombardamenti, scoppiata la guerra, cominciavano i bombardamenti, all'inizio aerei francesi e inglesi perché l'Italia fascista aveva dichiarato guerra alla Francia e all'Inghilterra. L'anno dopo, nel 1941, l'Italia fascista ha dichiarato guerra anche agli Stati Uniti d'America, sono cominciati i bombardamenti americani e quindi sono stati di una violenza inaudita, perché gli americani hanno colpito dove potevano colpire e di conseguenza sono stati anni di vita difficile perché i bombardamenti arrivano di notte e di giorno e allora si interrompono le qualsiasi attività, si scappa, ci si nasconde, ci si ripara e però siamo andati avanti. Il periodo è stato duro ma si è andato avanti e si sono affrontate le conseguenze perché una delle poi tante conseguenze è stata la frantumazione delle famiglie, ogni famiglia, quasi tutte le famiglie di cittadini italiani di religione ebbraica si sono sparpagliate perché naturalmente ci sono state famiglie che hanno avuto anche la possibilità economica di emigrare tutti verso un paese all'estero, un paese libero. Ci sono famiglie che non avevano questa possibilità e allora ecco anche qui vi dico così, tanto per meglio farvi comprendere quello che è successo nella mia famiglia ma anche in tante famiglie. Mio fratello maggiore che aveva compiuto 18 anni, aveva fatto la maturità classica, non poteva andare all'università, non poteva lavorare è riuscito a emigrare, è emigrato negli Stati Uniti d'America. Mio padre ha perso il lavoro, andò in Africa. Vedete che cosa strana poi. Oggi noi siamo, si dice, invasi dai cittadini africani che vengono in Europa attorno al lavoro. Mio padre nel 1936 è andato in Africa a cercare lavoro. Ecco, vedete com'è, i cicli storici sono capovolti in tanti momenti e per tanti motivi. Però ecco, la mia famiglia nel giro di pochi mesi, noi eravamo una famiglia tranquilla, eravamo cinque fratelli, stavamo bene, genitori, nonni, i zii, i cugini, come tante famiglie, semplici. Eravamo contenti di quel poco che ci avevamo, ma nel giro di pochi mesi un fratello più grande era in America, il padre in Africa e noi quattro più piccoli con il nostro amato i bombardamenti, la miseria, perché poi naturalmente per campare abbiamo dovuto arrangiarci come si poteva, vendendo tutto quello che c'era da vendere. Insomma, periodi molto, molto, molto duri. anche per rendere l'atmosfera un po' meno tesa e per dirvi anche cose gradive, perché mi piace sempre raccontare cosa bella quando ho l'occasione. Mio fratello, quello che andò in America a 18 anni, lui era in America, stava in America e stava bene, perché certo, in America non c'era la guerra, non c'era la fame, perché in America combattevano i soldati, ma non c'era la guerra, i bombardamenti sul territorio americano. Lui stava bene e noi invece stavamo male, però per ironia quasi, lui che stava bene è stato malissimo, perché lui per due anni e mezzo non aveva notizie nostre, non sapeva poi con tutto quello che si veniva a sapere di Napoli, degli ebrei, in Italia, e lui è stato due anni e mezzo senza sapere se ci avrebbe mai più rivisto. E lui, lui, mi dico subito che lui sta bene, tra pochi giorni compie 101 anni e sta benissimo. Ci sentiamo tutte le sere perché siamo rimasti lo stesso legatissimi anche se abbiamo avuto quella temporanea sospensione dei rapporti. Lui si farà raccontare tutto, lui sa che oggi veniva a incontrare voi, stasera mi chiederà come è andato l'incontro perché vuol sapere tutto, anche così passiamo un po' di tempo a chiacchiare, però lui soltanto una ventina di anni fa quando lui è venuto in Italia e lui veniva in Italia tutti gli anni anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere una madre che è campata fino a 103 anni e con una madre fino a 103 anni lui certo ogni anno almeno due volte all'anno veniva dall'America trovare la mamma e noi fratelli e soltanto 15-20 anni fa lui mi ha confessato che quando ha ricevuto la prima lettera di nostra madre che lettera che è stata mandata a lui come non funzionava la posta subito dopo quando la guerra non era ancora finita questa lettera lui l'ha ricevuta attraverso un soldato americano che noi incontrammo per la strada gli dimmo questa lettera e lui la mandò con la posta militare lui mi ha confessato che quando ha ricevuto questa lettera lui non ha avuto il coraggio di aprirla lui temeva ha riconosciuto la calligrafia della mamma però lui temeva che quella lettera potesse dirgli che eravamo tutti morti eravamo tutti finiti chissà dove lui ha avuto bisogno di tenere quella lettera sul tavolo qualche ora e poi finalmente l'ha aperta e naturalmente con emozione con gioia appreso che eravamo tutti vivi con mio padre un'altra storia è che mio padre andando in Africa fu fatto prigioniero civile in Africa e quindi lì è rimasto per sette anni successivi anzi otto in realtà quindi ci siamo rivisti dopo tanti anni e anche quello è stata una difficoltà perché io ho rivisto mio padre dopo nove anni voi state facendo i conti sono nove anni e io mi ricordo che io non riusciva a dire la parola papà i primi giorni io erano sconosciuto e faticavo a chiamarlo papà e quindi racconto queste cose per dire come quanto sia stato poi difficile ricostruire ci è voluto il tempo ci è venuto molta pazienza e ci è venuta anche una cosa che per fortuna noi abbiamo avuto una grande forza familiare noi abbiamo tra noi fratelli con i genitori noi siamo riusciti a mantenere un rapporto molto bello molto forte poi ci siamo tutti sposati abbiamo figli nipò siamo tutti nonni bisnonni oggi siamo una tribù di 60 70 persone e questo è bellissimo questa è stata la forza che in quel momento ci ha consentito di costruirci il nostro il nostro futuro ecco che altro raccontarvi di episodi da raccontarci sarebbero tanti io ne voglio raccontare solo un paio che mi vengono in mente perché è quello che sul quale insisto sempre sulla per come sono cambiati i tempi io sono sono contento quando io vedo tra ragazzi la solidarietà c'è troppo io ho visto mi è capitato più di una volta in una classe in una scuola un ragazzo una ragazza che è andata male per l'interrogazione e che piangeva perché è giusto si può piangere se un'interrogazione è andata male e gli altri compagni che lo consolavano la consolavano queste sono cose sono cose bellissime e allora quando racconto questo e assisto a queste scene mi torna alla mente a due ragazzi che in quel periodo giocavano con noi per la strada allora si giocava per la strada era molto usuale giocare per la strada specialmente a Napoli non c'erano le macchine come ci sono adesso naturalmente quindi si giocava a football per le strade con un pallone non di vero pallone ma una palla di stoffa allora così ci arrangiavamo eppure due ragazzi che giocavano con noi due ragazzi della stessa nostra età cioè noi ha detto papà e la mamma che non dobbiamo più giocare con voi perché voi siete ebrei e a quel punto non ci abbiamo visto più non ci abbiamo visto più e devo dire anche una cosa molto brutta io me ne pento mi dispiace doverlo raccontare perché abbiamo fatto una cosa brutta noi fratelli gliene abbiamo date di tutti le abbiamo messi sotto e le abbiamo date di santa ragione è brutta la violenza non dovrebbe mai prendere il sopravvento io credo che sia l'unica volta nella mia vita che ho alzato ho alzato le mani e allora però in quel momento in quel momento credo che eravamo giustificati perché fu una provocazione troppo forte sentirsi dire da compagni di gioco non giocavano per noi perché siete ebrei ma che giustificazione che motivo è questo e allora la reazione è stata forte è stata violenta ma poi gli abbiamo dato un paio di ceffoni un calcione e poi è finita così ovviamente non ci siamo mai più frequentati che altro qualche altro episodio che forse voglio raccontarlo proprio per anche farvi capire l'atmosfera di quel periodo perché il peggio poi è venuto accanto alle persecuzioni che riguardavano soltanto i cittadini di religione ebraica quando i bombardamenti riguardavano tutti per i napoletani tutti Napoli è una città di un milione di abitanti a Napoli gli ebrei erano 3-400 quindi eravamo una sparuta uno sparuto gruppo tra l'altro che non è che vivevamo tutti in uno stesso quartiere e nel quartiere dove quando cominciavano i bombardamenti bisognava rifugiarsi negli scantinati perché si sperava che nello scantinato la bomba non arrivasse e invece però succedeva che certe volte purtroppo le bombe arrivavano fino negli scantinati e naturalmente uccidevano tutti quelli che c'erano e io ecco come episodio di partecipazione di vita in tempi di guerra sotto i bombardamenti in uno dei tanti bombardamenti americani io ricordo anche la data era il 4 agosto del 1943 io quando devo raccontare qualcosa mi piace possibilmente indicare la data precisa e i nomi e cognomi quando c'è da fare i nomi e cognomi era il 4 agosto del 1943 io ero andato a trovare mia nonna è arrivato il bombardamento la sirena l'allarme eravamo con la nonna e altri parenti nella cantina e a un certo punto si sentì cadeva la bomba e guardate voi forse l'avrete visto in qualche filmato quando c'è un bombardamento bombe che cadono siccome un corpo un oggetto pesantissimo che viene dall'alto c'è un simbilo e noi abbiamo sentito questo simbilo quindi sentendo questo simbilo parliamo di attimi io lo racconto me lo ricordo io ho detto è la fine perché questo scende simbile e poi esplode ho stretto la mano di mia nonna e miracolosamente la bomba non è esplosa la bomba si è interrata a livello del ricovero e non è esplosa e quella è stata in quel momento la salvezza ecco ci sarebbero tante cose da raccontare allora ne vorrei raccontare però una che ha secondo me un particolare significato tra le categorie tra le categorie colpite medici commercianti studenti ci sono stati anche gli ufficiali di carriera chi erano gli ufficiali di carriera? erano cittadini e quindi cittadini italiani insisto di religione ebraica che per il loro attaccamento alla patria avevano deciso come attività di fare la carriera militare e quindi hanno scelto la carriera militare nella loro divisa il cappello l'ordinanza la pistola la sciabola secondo l'arma che avevano deciso e una delle leggi obbligò questi cittadini a restituire tutte le la divisa e quello che avevano e di non essere più considerati cittadini italiani perché erano indegni di restire la divisa militare questa è stata un'offesa che ha coprito questa categoria e non sono stati pochi coloro che hanno restituito la divisa hanno indossato nuovamente gli abiti civili ma non hanno resistito all'offesa e si sono suicidati abbiamo nelle statistiche abbiamo anche alcuni dati che che ci indicano quanti suicidi ci sono stati in quel momento perché ci sono stati i più forti ma ci sono stati i più deboli e naturalmente i più deboli hanno pagato quello che hanno purtroppo dovuto pagare io vi devo anche confessare che in quel periodo perché anche questa è una cosa molto brutta ma va confessato in quel periodo io ho odiato il mio paese perché io mi sentivo odiato dal mio paese io italiano che avevamo a casa la bandiera tricolore sapevamo che c'era un cugino che era morto in guerra sapevamo di antenati che avevano combattuto e ci venivamo invece indicati come indegni di essere italiani cioè non meritate il diritto italiane e a fuori di essere odiati io ho odiato il mio paese e guardate che è un sentimento molto brutto perché odiare il proprio paese dove uno è nato che uno ha amato e sentirsi trattato così si finisce con l'odia io ho odiato il mio paese naturalmente finita la guerra ci è voluto un po' di tempo ma ho ripreso voglio in questo questo tranquillizzarvi ho ritrovato tutto il mio amore per il mio paese e quando le vicende della vita mi hanno dato la possibilità di ricoprire una carica istituzionale e io sono andato ho rappresentato il mio paese in certe occasioni ho indossato la fascia tricolore posso dire che quando mi sono messo la prima volta e le volte successive la fascia tricolore l'ho fatto con orgoglio e con grande con grande amore ecco questo proprio perché volevo fugare qualsiasi dubbio potesse rimanervi io vorrei concludere questo mio incontro e poi do la parola alla preside e la preside è stata anche la mia preside perché quando io ho cominciato anni fa andare in una scuola sono andato nella scuola della preside Pintus poi ci siamo ci siamo innamorati e ci siamo innamorati e lei ogni anno mi ha invitato anzi non solo mi ha invitato ogni anno andare nella sua scuola ma quando un anno lei ha portato la sua scuola a visitare i campi di stermine di Auschwitz lei mi ha invitato ad andare con loro io ho resistito un po' ho resistito un po' io non avevo il coraggio e invece io le sono grato anzi sono contento di questa occasione per rinnovare nella mia riconoscenza perché io sono andato con lei con le docenti i docenti di quella scuola erano 100 ragazzi 115 ragazzi siamo andati ad Auschwitz per me è stata una grande emozione ma io non posso dimenticare quello che hanno fatto quei ragazzi ecco i ragazzi quando i ragazzi sanno dimostrare la loro solidarietà quei ragazzi quando io visibilmente emozionato in quel luogo quando poi la sera eravamo a cena tutti insieme quanti di loro andando a letto sono prima di andare a letto sono passati mi hanno dato una mano sulla spalla mi ricordo sempre uno che venne e mi diede il bacio della buonanotte guardate queste sono cose che non si dimenticano io sono grato a quei ragazzi e alla preside Pintus che mi ha dato l'occasione di fare quelle esperienze ecco io chiudo raccontando invece proprio voglio chiudere con l'episodio quello lo racconto sempre in finale perché è un episodio molto bello qual è stato l'episodio molto bello dopo cinque anni di non scuola dopo cinque anni con questa scuola rubata Napoli era stata liberata e io sono tornato a scuola è stata una giornata memorabile emozionante io sono rientrato in una scuola nella scuola io nel fratello avevo fatto i cinque anni di ginnasio ho fatto a scuola i tre anni di liceo classico quando io sono entrato in quella in quell'aula io ero spaisato avevo quasi paura perché vedete la scuola la classe ha un profumo ha un odore il gesso la lavagna i compagni i professori le professoresi danno un profumo alla classe un odore piacevole e io ho riprovato questo bellissimo momento mi ero talmente emozionato che quando quando si è stato fatto l'appello e il professore ha detto fraugri io non ho saputo rispondere subito presente ho avuto qualche attimo di titubanza perché ero ormai abituato per da cinque anni che quando veniva pronunciato il mio nome veniva giunto di razza ebraica naturalmente quella volta eravamo mai liberi e il professore non ha detto ha detto fraughe basta io ho avuto un attimo di esitazione e ho risposto poi presente l'ho risposto con forza forse con quasi una forza polemica perché ho sentito che in quel momento io avevo riacquistato la mia libertà ma soprattutto avevo riacquistato la mia dignità di essere umano vi ringrazio ragazzi ugo voglio aggiungere se non è acceso sì non voglio aggiungere nulla perché a questa testimonianza a queste parole veramente non c'è da aggiungere nulla come vedete ugo foa non ha scritto solo un libro è una persona appunto che questi racconti li va facendo nelle scuole da tanti anni e viene invitato da questo gruppo che si chiama Progetto Memoria molto importante appunto in tutta Italia viene invitato ugo foa quindi il fatto che abbia scritto poi un libro è un po' come dire la conclusione è stato l'editore stesso che gliel'ha chiesto perché effettivamente a questo punto abbiamo un oggetto concreto ma le parole la sua voce la sua presenza ecco ha detto presente allora ed è veramente molto presente ugo foa un mio amico ma è una persona che diventa amico di tutte le persone che conosce molti hanno avuto questa fortuna di conoscerlo e spero che anche per voi rimanga un bel ricordo l'esperienza di cui lui ha fatto cenno il viaggio ad Auschwitz e le emozioni che ha sollecitato quel viaggio vorrei che ve la raccontasse proprio la professoressa Pintus Anna Maria Pintus sì grazie è acceso che dire dopo ugo è un po' difficile parlare allora io ho conosciuto ugo 15 anni fa forse di più perché ero preside in una scuola romana all'estremità periferia di Roma una scuola difficile e avevamo deciso di portare i ragazzi ad Auschwitz allora i viaggi si potevano fare adesso purtroppo con la pandemia voi non li potete fare era stata una scelta ponderata avevamo anche parlato con i responsabili del progetto Memoria i quali ci avevano sconsigliato perché ma i ragazzi sono troppo piccoli conviene fare questo viaggio al liceo quando i ragazzi sono più grandi noi però abbiamo pensato che fosse importante e quindi siamo andati avanti e abbiamo chiesto la presenza di alcuni testimoni per preparare i ragazzi al viaggio e abbiamo conosciuto Ugo ed è stato come dice Ugo amore a prima vista cioè Ugo è diventato una persona importante per la nostra scuola i ragazzi lo hanno amato ha partecipato a tutte le nostre iniziative e lui mi disse una delle prime volte che venne a scuola che non era mai stato ad Auschwitz che aveva questo desiderio che però aveva timore e soprattutto non voleva partecipare a uno di quei viaggi organizzati credo dal progetto Memoria non lo so non mi ricordo erano tutte persone anziane e insomma non se la sentiva noi partimmo per Auschwitz l'anno successivo a settembre dovevamo stavamo riorganizzando per quell'anno la stessa iniziativa chiesi a Ugo se sarebbe stato contento chiesi di partecipare al viaggio insieme a noi e lui mi disse ci devo pensare mi telefonò mi sembra il giorno dopo un paio di giorni dopo e mi disse che aveva parlato con i figli non so se è giusto se ti ricordi i quali l'avevano incoraggiato perché fare il viaggio con i giovani sarebbe stato più facile per lui e quindi Ugo è partito con noi noi partimmo con 115 ragazzi quell'anno e arrivamo a Cracovia Ugo entrò nel gruppo della come disse io sono l'alunno più giovane e fece tutto quello che fecero i nostri alunni ad Auschwitz è stato naturalmente un momento particolarmente emozionante soprattutto questo poi lui lo racconta nel libro quando sui binari di Birkenau sapete l'avete visto tante volte nei film il punto in cui arrivavano i treni da cui scendevano gli ebrei per essere avviati al campo di sterminio o addirittura direttamente alle camere a gas lui senza dirci non ci aveva avvisato si inginocchiò e disse io devo recitare una preghiera c'è la foto nel libro allora fu un momento non emozionante ancora adesso vi commuovo se ci penso la cosa sconvolgente fu vedere 115 ragazzi fermi come statue commossi dal gesto di Ugo tant'è vero che la mia vicepreside che era vicina a me mi disse ma sono i nostri questi perché 115 come voi immaginate non siete proprio delle statue quando andate in giro immobili commossi perché Ugo ci aveva veramente commosso e quando ci incontravamo ad Auschwitz la visita si fa a piccoli gruppi chiaramente io ero nel gruppo di Ugo e passavano gli altri gruppi gli altri ragazzi e ogni tanto quando ci incrociavamo sentivo qualcuno che diceva chiedeva Ugo Ugo come va perché avevano capito che per lui era un momento particolarmente commovente però forse vorrei sentirlo da Ugo se Ugo ha qualcosa da dire a proposito di questo viaggio non lo posso dimenticare è stato un viaggio molto importante che io desideravo tanto devo anzi anche confessare che i miei figli mi hanno incoraggiato mia moglie era contraria giustamente lei da moglie anziana come ero anziano io anche in quel momento ha temuto ha temuto che potesse farmi male alla salute e allora io però ho superato quell'ostacolo e nella vita coniugale ci sono tanti ostacoli da superare nonostante questo però io mia moglie oggi non c'è più però ho vissuto 57 anni di vita matrimoniale quindi vedete che quando si ha un po' di pazienza i matrimoni durano ed è molto bello ma torniamo a noi torniamo certo l'emozione è stata le perplessità erano tante ma l'emozione fu enorme io sono tornato non dico contento ma soddisfatto di aver fatto un gesto grazie alla preside Pintus e a tutta la sua scuola perché poi la scuola mi aveva secola preside Pintus avevamo stabilito un rapporto fraterno di amicizia ma è tutta la scuola che mi aveva un po' adottato professori bidelli custodio ma ero di casa lì e la scuola era la scuola di lunghezza lunghezza è una frazione alle porte di Roma sulla strada verso l'Aquila e quindi è stata una cosa meravigliosa con questi ragazzi che nei due giorni che abbiamo vissuto insieme hanno dimostrato in più occasioni la loro partecipazione la loro la comprensione della la loro comprensione di fronte alla mia giustificata emozione ecco grazie una piccola chiusa perché vi abbiamo occupati per molto tempo non so di fronte a un testimone che racconta la sua storia non è possibile non credere ai fatti e voi sapete che oggi quello che si si sente un diffuso sentimento di di odio nei confronti dei cosiddetti diversi degli ebrei dei neri noi in questa casa abbiamo anche parlato molto spesso di fenomeni come questi dell'antisemitismo del razzismo perché fare storia significa anche parlare del presente e quindi interpretarlo alla luce delle cose passate ebbene perché lo dico quando si sente un testimone si sente la verità dei fatti e come è possibile non crederlo in questa casa hanno parlato persone che hanno subito la persecuzione lui è un sopravvissuto alle persecuzioni nel senso che non ha avuto la la disgrazia di essere stato appunto portato via ma quante persone della sua famiglia e quanti in questa casa lo sono stati hanno parlato e delle loro voci come vi dicevo abbiamo la registrazione c'è addirittura c'è addirittura in questa casa un archivio sonoro che conserva queste registrazioni e queste di tanti altri pensate in questo archivio ci sono anche oltre che appunto le interviste fatte ai testimoni canti canti popolari canti politici canti sociali perché tutto ciò comporta e serve a costituire quel quadro in cui poi le cose sono avvenute e non è possibile più non crederle quindi a questo punto ecco se qualcuno vi dice possiamo avere qualche dubbio sul fatto che magari certe cose non siano accadute purtroppo esiste anche un negazionismo dei fatti che stanno di cui stiamo parlando e che sono accaduti qualcuno nega Auschwitz addirittura quello che è accaduto lì e beh quando si sente parlare di queste cose non si può più non credere a questo con questo forse vi devo salutare vi invito anche se volete appunto a ragionare ancora con noi su questi temi se volete il tempo non ci manca e quindi prego se qualcuno vuole portiamo lui un microfono portiamo qui a voi un microfono ci sono ragazzi che vogliono fare domande così diamo un po' di spazio anche a loro sì potete non so se avete delle domande sia su quello che così più o meno verrete magari anche preparate ma anche qualche curiosità che volete togliere dal racconto che ho fatto io potete a me potete chiedermi qualsiasi cosa senza la minima preoccupazione ho visto che ci sono delle mani alzate uno in prima fila e uno in ultima fila cominciamo dall'ultima perché l'ho alzata prima scusa di anche il nome così mi più facile poi eventualmente rispondere va bene mi chiamo Ginevra e le volevo chiedere cosa si prova alla distanza di tutti questi anni di riparlare continuamente sempre degli stessi fatti abbastanza comunque dolorosi e che rimangono ecco grazie Ginevra della tua domanda che ha dimostrato una sensibilità perché è giusto io mi dai l'occasione di dire che sono stati necessari tanti anni per poter parlare noi per 50 anni non abbiamo voluto parlare ma non perché non volevamo parlare perché non ce la sentivamo perché non avevamo il coraggio perché ci faceva male parlare speravamo di dimenticare però dopo 50 anni dico noi perché come quello che ho fatto io sono stati anche altri amici più o meno coetane i miei che non hanno voluto parlare per tanti anni perché eravamo stanchi di quello che di quel periodo vissuto di quei dolori che avevamo avuto e avevamo preferito il silenzio poi dopo 50 anni ci siamo resi conto che era doveroso da parte nostra parlarne perché era doveroso raccontare a voi giovani quello che è successo che è successo anche qui in Italia nel nostro paese perché raccontando poi si raccontano tanti episodi che sono avvenuti episodi dolorosi episodi però anche belli di cittadini romani non ebrei cattolici che hanno rischiato la loro vita per salvare per esempio una famiglia di ebrei sono tutti episodi che ecco raccontando vengono fuori però devo rispondendo alla tua domanda devo dire che certo le prime volte che io sono andato a parlare in una scuola ho provato una grande emozione mi ricordo che scrivevo mi scrivevo quello che dovevo dire poi mi veniva un no dalla gola e cercavo di non essere sopraffatto dalla commozione oggi io credo di aver parlato con voi con una sufficiente apparente serenità cioè ho imparato a parlare con tranquillità e con serenità naturalmente non mi posso nascondere che ogni volta che parlo con voi o con altri di questo porto questa testimonianza certo nel mio intimo provo ancora dei sentimenti che è difficile anche spiegare grazie Ginevra mi chiamo Lorenzo e mi chiedevo se dopo l'emanazione delle prime leggi razziali ovvero il divieto di andare a scuola lei immaginava che alcune persone potessero arrivare addirittura alle deportazioni e ai campi di sterminio perché ormai sappiamo tutti com'è andata conosciamo la storia ma al tempo non credo che si poteva immaginare tanto hai ragione hai centrato il problema non si poteva immaginare perché noi soltanto dopo ci siamo resi conto che veramente insomma siamo stati molto vicini all'essere a far parte di un massacro perché proprio l'altro giorno leggevo nel suo micro quale giornale ha fatto ha riportato la storia di quando nel 1942 si riunì in Germania lo stato maggiore tedesco e decise in quella seduta 1942 quindi noi eravamo vivi ma ignari loro ha deciso che gli ebrei di tutta Europa dovevano essere uccisi dovevano essere eliminati dalla faccia della terra no e noi però non ci rendevamo conto perché intanto perché la vita era diventata più difficile e c'erano problemi di sopravvivenza quotidiana poi non c'erano i mezzi di comunicazione quindi tante le notizie non arrivavano non c'era la radio non c'era la televisione ne parliamo non c'era il telefono non c'era la posta niente ma noi tante cose le abbiamo sapute a guerra finita perché quando a guerra finita noi scoprimmo che tanti parenti tanti amici erano stati arrestati e non tornavano più e allora si chiamavano i deportati cioè quello non c'è perché è stato deportato e poi la parola deportato è stato sostituito dalla parola sterminato perché quelli che sono stati arrestati sono stati deportati perché sono stati portati nei campi di sterminio ma lì sono stati sono stati sterminati certe cifre a modo esempio dico che il 16 ottobre a Roma arrestarono 1022 cittadini nel quartiere romano quello vicino alla sinagoga del ghetto di questi 1022 ne sono tornati vivi soltanto 16 ecco questi sono i rapporti tra però noi che non che non avevamo vissuto direttamente quell'episodio eravamo forse incoscienti ma non sapendo le cose ma anche a fine guerra quando cominciavano arrivare le notizie noi pensavamo che non fossero vere e che queste persone che erano state arrestate prima o poi sarebbero tornate e si vive dei periodi così di speranza e quindi il periodo quando è tornata la libertà la liberazione e ci sono stati due anni di ricerche di parenti di amici di cui non si aveva notizie si andava a Milano a Torino a Livorno a cercare quello quell'altro ah dice sì l'hanno arrestato ah sì l'hanno arrestato lui e tutta la famiglia e l'hanno portati via ma chissà dove ecco tutte purtroppo tutte verifiche sono state fatte e poi purtroppo si è arrivata a certe conclusioni grazie domande ci sono ancora domande sì mi hai detto Michele scusa no Provenza io mi chiedevo se a distanza di tutti questi anni provava rabbia o risentimento per i responsabili di queste cose di questi orrori della guerra praticamente beh sì non posso far a meno di confessare che provo risentimento proprio risentimento perché sono stati insomma degli assassini ma degli assassini a freddo proprio studiato a tavolino e allora ecco oggi quando mi è capitato in qualche scuola soprattutto nelle scuole superiore perché alla vostra età si è più buoni poi certe volte qualcuno diventa cattivo crescendo succede e non mi è capitato in qualche liceo qualche dagli ultimi file qualcuno che si è alzato ha detto ma lei ha raccontato tante cose ma saranno vere ecco allora questo questo che evidentemente era proprio la rappresentanza di una mentalità negazionista e io certo di fronte a questo sono stato calmo credo che alle volte la mia espressione riesce a trasmettere quello che io provo l'ho guardato con disprezzo non posso averlo guardato con benevolenza e allora in quei casi io cammino sempre documentato stavolta con voi mi sono portato pochi documenti perché sapevo che l'incontro sarebbe stato a questo livello piacevole io mi porto un elenco che pubblicò una volta un giornale una rivista romana è una pagina in un'occasione della giornata della memoria questa rivista pubblicò un articolo tutto su sfondo nero senza commenti senza fotografie soltanto dice l'elenco di 200 bambini romani deportati e di cui non si sono più avuti notizie e allora io a questi giovani che mi fanno mi è capitato poche volte per la verità sarà tre volte non di più io lo guardo con un po' di disprezzo questo è vero e poi apro questa pagina gli leggo 5-6 nomi e gli dico Sara 5 anni Nicole 3 mesi Davide 2 anni e mezzo gli leggo 10 nomi poi chiudo il foglio la cartella e dico se tu riesci a darmi notizie di queste persone allora io posso posso ricredere e rivedere le mie opinioni e chiudo e basta non replicano neanche perché poi in genere quelli che fanno queste domande sono anche vigliacchi e quindi non fanno altre domande e quindi la cosa si conclude così grazie Lorenzo credo che non bisogna avere alcun timore l'espressione le parole usate il modo di raccontare di Ugo testimoni assolutamente una verità dei fatti mi veniva in mente una cosa voi in questo periodo e anche i vostri insegnanti e i vostri dirigenti sono molto impegnati per dirimere le questioni sanitarie poi c'è la faccenda della famosa didattica a distanza e qua si parla di un allontanamento dalla scuola che poi insomma è un po' il nucleo del racconto di Ugo attorno a cui c'è tutta la sua storia ma l'allontanamento dalla scuola per voi oggi che cosa vuol dire pensate quanto è cambiato il modo di diciamo anche di affrontare l'allontanamento dalla scuola per alcuni di voi addirittura potrebbe anche non essere così disdicevole addirittura meglio però certamente il valore di stare assieme ai compagni di vivere quotidianamente il rapporto con i professori in un ambiente che addirittura ha un odore certo voi il gesso oggi forse non usate tanto più usate i computer però è vero che entrando in classe c'è un'atmosfera che comunque non la potete realizzare altrove se non in classe quindi pensateci quando vi tocca fare la didattica a distanza lavagne e gessi sono intramontabili benissimo è manco dalla scuola da un po' di tempo scusa no no io per carità volevo dire mi piace che parlando vengono in mente altri episodi questo non è un episodio vissuto da me ma mi è stato raccontato in occasione di uno di questi incontri che è successo in un liceo romano in un liceo romano c'erano 12 studenti di religione ebraica e allora venne la circolare interna che questi 12 studenti che era appena iniziata la scuola nel sempre parliamo del 1938 dovranno essere invitati a non venire più a scuola e il preside di questa scuola non volle mandare la circolare in giro volle chiamare questi 12 studenti nella nella sua stanza stanza del preside li chiamò disse certamente a ognuno qualche parola di circostanza di solidarietà e poi li invitò con parole di rammarico anche di sofferenza che era costretto a dire che loro non avrebbero più potuto tornare a scuola quando è uscito il dodicesimo studente questo me lo ha raccontato uno che era presente il preside si è rivoltato alle spalle dove c'era il crocifisso e ha detto adesso Gesù puoi andare via anche tu penso che sia un episodio che meriti di essere raccontato perché il preside ha voluto ha voluto manifestare la sua solietà rivolgendosi addirittura invitando Gesù andarsene via che Gesù era nato ebreo quindi non poteva più restare il crocifisso in quell'aula è un episodio molto bello che mi piace quando capita perché poi incontrando voi studenti se ne scopono tanti venne raccontato uno divertente così poi magari arriviamo alla conclusione questo mi è successo in un paese vicino a Napoli in un paese vicino a Napoli c'è un ragazzo molto sveglio un po' grassottello che stava seduto lì al centro quando è venuto il momento delle domande lui alzava la mano alzava sempre la mano in ritardo per cui non capitava mai e gli dicevo sempre aspetta un momento adesso arriva il tuo turno quando finalmente è arrivato il suo turno allora si chiamava Luigi Luigi vieni vieni a parlare ah dice sì lui è arrivato io volevo domandare ma sono scordato cioè lui nel frattempo si era dimenticato quello che aveva la domanda e spontaneamente dice ma sono scordato non ti preoccuparti torna quando ti viene in mente fai il segno e lui dopo un po' ha alzato la mano di nuovo ah sì volevo chiedere e fece la domanda carina molto bella come quelle che ha fatto ha fatto Lorenzo che ha fatto Ginevra e come fanno tutti i ragazzi che io ho il piacere di ho il piacere di incontrare e io credo che per parte mia vorrei concludere se non ci sono altre domande c'è qualcosa no c'è un'altra mano alzata poi c'è anche il professore quindi poi io posso interrogo il professore poi dopo o lui interroga me non lo so che succede vediamo sono Carolina e volevo sapere lei come reagì quando scoprì che le persone che erano state diciamo arrestate in realtà furono portate nei campi di concentramento e non tornarono diciamo perché io naturalmente non ho assistito a quegli all'est perché poi purtroppo se uno assisteva ti prendevano certo ho assistito ai racconti ai filmati che sono successivamente sono stati programmati esposti raccontati e certo con un grosso più che dolore veramente con angoscia perché mi sono compenetrato di quello che hanno vissuto questi concittadini spesso amici qualche volta parenti che così che poi erano increduli perché poi venivano arrestati portati loro non sapevano dove poi dopo venivano a sapere e vivevano tutto il resto fino alla tragica alla tragica conclusione certo noi tutti questi racconti che mano a mano sono venuti fuori negli anni successivi hanno provocato angoscia in molti di noi e questa è la ragione per la quale poi per 50 anni non volevamo parlare proprio perché ci sembrava volare il desiderio di liberarci di questi racconti di queste cose che erano accadute che potevano accadere poi dopo 50 anni per fortuna io credo che sia stata una fortuna perché era doveroso che noi si portasse la nostra testimonianza e anche per noi è un po' liberatorio perché parlare è anche molto bello io vi assicuro che quando io incontro una scuola io mediamente adesso purtroppo a distanza quasi tutti in qualche scuola vado beh a voi vi ho incontrato di persona ma fino a due anni fa che andavo in giro dove ero invitato naturalmente generalmente io andavo in 30 40 scuole in tutta Italia e devo dire la verità sono stati incontri sempre molto belli molto piacevoli mi hanno aiutato a liberarmi di tanti ricordi dolorosi e adesso il professor vuole interrogarmi e allora si invertono i ruoli volevo ringraziarla appunto sono Stefano Scaccia volevo ringraziarla innanzitutto e ringraziare qui chi ci ha ospitato perché appunto uscire da scuola e incontrare direttamente appunto i testimoni è qualcosa di prezioso e quindi di nuovo ripeto la mia gratitudine anche alla collega Staterini che ci ha messo in contatto proprio perché lavoriamo molto su questo e una cosa che diceva appunto ai ragazzi anche in questi giorni è questo discorso del negazionismo e allora una cosa a cui tengo molto è ricordare che loro stessi devono diventare testimoni e questo è un po' il senso secondo me della memoria che non è un semplice ricordo o lo studio di un fatto ma diventare loro stessi andando a visitare anche i luoghi ricordo appunto lo scorso anno nonostante la pandemia con un gruppo della terza media siamo stati alle fosse erdiatine è un altro luogo doloroso di Roma è importante perché vedere questi luoghi leggere dei nomi come diceva prima crea una coscienza per tutti i ragazzi che è importante appunto fanno dei cittadini e dei cittadini democratici giusti che riconoscono il bene dal male anche di fronte a una legge sbagliata perché quel momento che Ugo ci ha raccontato è stato un momento in cui appunto lo Stato ha rinnegato alcuni dei loro figli dei suoi figli e quindi aver trovato lo spazio per ospitare per reagire a questa ingiustizia secondo me è importante quindi ricordarlo e poi l'altra cosa che volevo dire è che sono molto contento di questo incontro tra generazioni e quindi che i ragazzi della scuola media incontrino una persona anziana e perché c'è tanto da imparare perché appunto ecco è una cosa che viene detta molto per esempio anche da Papa Francesco questo discorso che c'è questa cultura dello scarto nei confronti delle persone anziane che sembrava aver dato qualcosa e siccome purtroppo si ragiona sempre in termini economici invece quello che le persone più grandi più anziane possono raccontare e appunto è una cosa talmente preziosa che è importante ripeto vivere fare propria e quindi poi a loro volta loro raccontarla ai loro figli quindi creare questa catena di trasmissione perché è importante che non si ripeta più quindi ancora grazie a tutti grazie per l'ospitalità e apprezzo speriamo di rincontrarla perché grazie grazie credo che non ci sia altro da aggiungere sono io che ringrazio voi per avermi dato questa occasione e vorrei augurare i ragazzi tutti che che meditino su questi su altri episodi che 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 vivono durante l'anno scolastico durante la vita ci sono episodi che non vanno sottovalutati e soprattutto io insisto sulla solidarietà perché oggi che la popolazione scolastica è così globalizzata e quindi nelle vostre classi ci sono ragazzi che vengono dall'estero che si inseriscono dimostrate la vostra la vostra la vostra il vostro affetto la vostra solidarietà perché hanno bisogno più di altri di essere di essere aiutati a voi vi auguro naturalmente sono voi siete mi pare di seconda e terza media a tutti di terza quindi siete un passaggio importante finite finite le medie in periodo hanno tutti i nomi diversi secondari comunque finite il triennio allora noi si chiamava ginnasio e poi dopo veniva il ginnasio superiore e poi liceo comunque è un passaggio molto importante credo che voi dobbiate fare l'esame quest'anno quindi pensate che quando andrete a fare l'esame non c'è bisogno di scrivere sul foglio sul tema sui lavori oltre al vostro cognome nome e cognome non dovete aggiungere altro e questa è una cosa molto bella io vi auguro che facciate tutti i begli esami che poi scegliate il liceo che avrete già penso deciso quale deve essere perché oggi poi c'è questa scelta di liceo ci sono tanti licei e quindi bisogna scegliere quello che sul quale uno si sente più portato ma mi sembra di poter dire così mi arrogo il diritto di dare un giudizio è una bella classe sono sicuro che farete delle belle scelte io vi auguro un futuro più bello più sereno più piacevole possibile e soprattutto che se ci saranno momenti difficili si superano guardate che anche c'è stato più di un momento nella vita nella mia vita che ho pensato che ormai era tutto finito poi invece si è superato abbiamo ricominciato a ricostruire mattone per mattone e oggi posso dire sono contento sono soddisfatto c'ho una bella famiglia c'ho figli c'ho nipoti c'ho bisnipoti quindi meglio di così non mi poteva andare e quindi altrettanto auguro a tutti voi grazie